Buon pomeriggio a tutti. Sono da sempre una persona molto curiosa e questo perché sono stato cresciuto dai miei genitori con il costante bisogno di chiedermi il perché delle cose, proprio come la protagonista di questo libro per bambini. Questa favola racconta di questa bimba che chiede costantemente al padre il perché delle cose, chiede perché il cielo sia azzurro, perché il sole sia in alto e luminoso, perché l'aria sia fresca e pungente d'inverno e affosa d'estate. E tutte queste domande che racchiudono quella semplicità che noi definiremmo infantile di fatto nascondono tutta la bellezza della necessità di scoprire come funziona il mondo da parte dei bambini. Inoltre, seppur poste da una bambina, queste domande non trovano facilmente una risposta. Tant'è che il padre, esasperato alle continue richieste della piccola, non sapendo più come risponderle, a un certo punto esclama perché sì. Ecco, questa frase, perché sì, io l'ho odiata fin da quando ero bambino, perché di fatto non mi soddisfava. La percepivo come un limite alla mia voglia di scoprire, alla mia voglia di capire come funzionasse il mondo. Poi, crescendo, ho imparato che cosa significasse veramente. Quel perché sì cercava di nascondere ciò che gli adulti non riuscivano a spiegare. Era una forma di difesa. Pensateci, pensate a qualcosa in cui vi ritenete esperti. Ebbene, se voi non sapete spiegare quella determinata cosa in modo semplice, lineare, come se lo dovesse spiegare a un bambino, voi non conoscete veramente quell'argomento. E questa è una cosa che ho imparato col tempo, quando a scuola e poi in università pensavo di aver capito qualcosa, ma poi quando dovevo spiegarlo in poche parole non ci riuscivo, facendo anche figuracce. Quindi ho capito che quel perché sì era un modo da parte dei miei genitori, ma da chiunque altro per farmi smettere di essere curioso. Ma io non ci riuscivo, io volevo capire come funzionassero le cose. E quindi ho iniziato anch'io ad utilizzare quella grandissima scatola virtuale, nota più comunemente come internet. E utilizzavo questa nuova tecnologia rendendomi conto non solo della grandezza del mondo, della quantità di informazioni che potevo trovare, ma anche della complessità nel recepirle. Poi internet e la tecnologia prendono il sopravvento, rivoluzionano la vita di tutti, lo fanno in tantissimi modi differenti. Ma ciò che quella che gli esperti chiamano la quarta rivoluzione industriale ha fatto veramente è stato stravolgere i sistemi comunicativi e informativi delle persone. Ad un tratto ci siamo ritrovati con una quantità abissale di informazioni che, così come in passato, oggi non riusciamo a gestire. Tant'è che nel mercato del lavoro di oggi si ricercano proprio professionisti che siano in grado di elaborare i dati, semplificarli, per poi utilizzarli a vantaggio dell'impresa. Si è capito l'importanza e le potenzialità del flusso informativo, ma allo stesso tempo sono aumentate le difficoltà. Perché è molto più complesso capirci qualcosa. Un grande problema del nostro tempo, infatti, è proprio l'incapacità di comprendere se quelle informazioni siano utilizzabili o meno, utili o non utili, vere o false. Riceviamo ormai così tanti input che non sappiamo più come gestirli. Le informazioni ci travolgono come un fiume in piena e l'errore madornale da non commettere mai è proprio quello di lasciarsi trasportare da esse, smettere di sviluppare senso critico. Da qui nasce la cultura del dubbio, ossia discendere le informazioni, non fermarsi all'apparenza, prendere le cose e analizzarle nel complesso, capire tutto ciò che si c'è là dietro di esse. Ovvio, questo non sta a significare cadere nel pieno scetticismo. La cultura del dubbio mira altresia ad essere critici, a discernere le informazioni utilizzando la propria vantaggio, a verificare costantemente la realtà dei fatti. Proprio come ha fatto questo mo qui. Per chi non lo conoscesse, lui è Michael Berry ed è famoso nel mondo economico anche perché è il protagonista del film La Grande Scommessa. Cosa ha fatto Berry? Ci troviamo negli Stati Uniti prima della crisi del 2008. È un mondo dove le persone spendono, investono, c'è grande prospettiva per il futuro, le banche concedono mutui anche a coloro che non se lo possono permettere. Un periodo florido. Curioso è il caso in quegli anni di una coppia di pensionati che viveva con poco più di 900 dollari al mese, a cui era stato concesso uno strano mutuo da 2000 dollari al mese. E in questo contesto nessuno si sarebbe mai immaginato quello che sarebbe successo lì a poco. A un certo punto Michael Berry non era convinto di ciò che effettivamente era il mondo. Si è posto un dubbio, si è chiesto ma ciò che tutti pensano sia reale, è reale o non lo è? Siamo davvero in presenza di un mercato che cresce o in una bolla speculativa? Lui non era tanto convinto della correttezza operativa delle banche e aveva ragione, poi il tempo gli aveva ragione, però cominciò a studiare le caratteristiche dei contratti e si rese subito conto che c'era qualcosa che non andava. C'erano evidenti fallaci operativi da parte degli intermediari. Di fatto alle banche non interessava se a coloro a cui concedevano i mutui potevano effettivamente pagarli. Allora interessava maximizzare il numero di mutui per poi infilarli in dei pacchetti che venivano offerti sul mercato. In questo modo loro intascavano dei soldi liquidi, si liberavano dei rischi dei mutui e lo ripartivano tra più investitori. Era legale come cosa? Sì, era redditizia? Moltissimo rispetto anche ai tassi interessi di allora. Era sostenibile a lungo termine? Assolutamente no. Michael Berry si accorse proprio di questo. si rese conto che il castello di carte che tutti avevano contribuito a costruire era prossimo a crollare. Allora decise di fare una cosa un po' insolita, decise di investire contro il mercato. Andò dagli stessi intermediari finanziari scommettendo sul crollo del mercato americano. Lì per lì i finanziatori erano increduli. Dicevano questo è pazzo, ci sta regalando i suoi soldi. Erano come intrappolati, incatenati nella caverna di Platone. Osservavano una realtà che pensavano fosse reale, ma che non lo era. Quando si resero conto di ciò che fosse veramente la realtà, era ormai troppo tardi. La gente non comincia a pagare i mutui, perché non se lo può permettere. La crisi del 2008 si scatena, porta conseguenze globali. Ad oggi è riconosciuta ancora come una delle più grandi crisi che la storia dell'umanità abbia mai vissuto. Uno dei pochi che si salva in quel periodo è proprio questo qui, è proprio Michael Berry, che con il colloci ha fatto personalmente più di 100 milioni di dollari. Questo perché non si è fermato all'apparenza, si è posto un dubbio, ha saputo valutare tutte le informazioni in gioco, ha saputo essere critico. Allora, intanto notate il boom che ha avuto nel 2008 il mercato globale, è stato proprio devastante. Allora l'esperienza di Berry che cosa ci insegna? Ci insegna che, specialmente oggi, dobbiamo smettere di pensare di sapere tutto o addirittura abbandonarci a non sapere nulla. Perché la prima via ci porta alla superbia, la seconda all'accidia. La verità, come diceva Aristotele, sta nel mezzo. Bisogna chiedersi i motivi per i quali tutto ciò ci succede nel mondo di oggi. I motivi dietro le cose che accadono. Non fermarsi all'apparenza anche in un mondo dove sembra che sormonti su tutto il resto. E dove i social alimentano questo fenomeno mostrandoci spesso una versione che non sempre coincide con la realtà. Allora, per ricollegarmi al tema, che è messaggio in bottiglia, voglio lasciare anche io un mio messaggio a voi. Ovvero quello di non smettere mai di dare retta a quella voce, che i grandi sbagliando definiscono infantile, di chi si chiede sempre. Perché? Grazie.